Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati e grazie a tutti coloro che finora hanno sottoscritto il preabbonamento per finanziare il progetto editoriale del Vaso di Pandora che, sapete, è diventato un'attestata giornalistica. Io e Gabriele Sannino, che è il direttore responsabile, mentre io sono l'editore, vi ringraziamo di cuore. Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo, 35 mila euro, se raggiungeremo i 40 mila potremo aprire una sede fisica. Quanto potremo far crescere il progetto e quanto potremo strutturarci lo decidete solo voi e lo decidete solo voi abbonandovi al Vaso di Pandora. Acquistate quindi il preabbonamento per finanziare il progetto. Trovate qui sotto il link in descrizione per conoscere il progetto nei dettagli e come lo faremo crescere se sarete in tanti ad abbonarvi. C'è tempo fino alla 30 marzo per acquistare il vostro preabbonamento, per consentirci di finanziare il nostro progetto editoriale. Grazie a tutti coloro che hanno sottoscritto il preabbonamento e a tutti coloro che lo sottoscriveranno nei prossimi giorni. Grazie veramente di cuore. E veniamo alla puntata di oggi. Da più di due anni siamo immersi nel clima bellico ma la guerra come metodo di controllo e depopolamento che sono sinonimi e sono il tema della puntata. La guerra diceva un metodo ormai superato da quasi un secolo. Ne parliamo e analizziamo quali sono i metodi di controllo e depopolamento con la giornalista Martina Pastorelli a cui do il benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Giornalista, volto noto, giornalista e blogger, scrive sulla verità, autrice del docufilm Covid-19 e 12 mesi di pensiero critico. E benvenuto al Leonardo Guerra. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Benvenuto Leonardo, ricordo, biologo molecolare esperto di sistemi sanitari. Allora, Leonardo, la guerra è un metodo in ottica di depopolamento e di controllo incredibilmente ormai è superato? Sì, dobbiamo dire subito in apertura che quello della guerra è un metodo classico che continua ad essere utilizzato, come abbiamo scoperto, anche con delle varianti molto preoccupanti, perché negli ultimi periodi assume anche il carattere del genocidio, anzi, è addirittura selettiva e prevale nei confronti dei bambini, che è un tema inquietante, ma ha una radice molto molto lontana a questo tipo di approccio, che sta per essere integrato con altre metodologie che abbiamo imparato durante il Covid e che è data almeno al 1992, quando fu forgiato lo slogan dello sviluppo sostenibile, in cui si dichiarò apertamente che il controllo della popolazione era essenziale per garantire la sopravvivenza della specie umana sul pianeta. Un pianeta che era programmato, secondo alcuni cosiddetti, tra virgolette esperti, per non un limite di popolazione che noi avevamo già cominciato a superare, che quindi per il bene comune supremo doveva essere messo sotto controllo e, diciamo così, ridotto opportunamente. Le dichiarazioni da questo punto di vista si sprecano, perché l'agenda 21 dell'ONU lo dice apertamente. Vi ricordo che l'agenda 21 è il preludio dell'agenda 2030 e della prossima agenda 2050, quindi è una radice molto profonda, quella che è una radice culturale che attinge e che riguarda tutte le elite, in particolare l'ultima generazione di elite, che si sono sempre molto preoccupate di tenere sotto controllo le popolazioni, ma ricordiamoci le dichiarazioni allucinanti del ex ministro Cingolani, che diceva che il pianeta era progettato per non più di 3 miliardi di persone, o del principe Filippo, marito di Elisabetta II di Inghilterra, in cui in una dichiarazione televisiva dichiarò che bisognava eliminare o l'80 o il 90% della popolazione terrestre per garantire un giusto equilibrio, oppure ultimamente nel 2008 il direttore Turner della CNN che diceva che bisognava eliminare 2 miliardi di persone, o Bill Gates che si è sprecato negli ultimi 5 anni e dichiarava appartamente che bisognava ridurre con i vaccini o grazie ai vaccini il 15% della popolazione mondiale. Sì, mi verrebbe la provocazione, mai che diano il buon esempio, però insomma, no? Esatto. Sentiamo Martina Pastorelli, perché hai già messo, Leonardo, già tanti punti interessanti. Sì, Leonardo ha fatto una bella rassegna, direi che forse ancora prima di tutte le agende e gli appuntamenti che lui ha nominato, andrebbe citato il famigerato club di Roma. Parliamo della fine degli anni 60, quando si riunisce a Roma questo gruppo di decisori, diciamo, a vari livelli, ed è lì, in quel consesso, a porte chiuse, che viene elaborato il concetto di crescita zero, sia dal punto di vista della popolazione, sia dal punto di vista economico. E, ditemi voi, adesso non si sta esattamente realizzando e compiendo quell'auspicio, un auspicio che aveva, diciamo, intenzioni malvagie. Io ho intervistato l'anno scorso un personaggio molto eclettico, che è architetto, che è filmmaker, autore di sceneggiature cinematografiche, è un attivista, un personaggio molto poliedrico, si chiama Robin Monotti, che vive in Inghilterra, e che mi riportava l'opinione, il racconto di un suo amico, che in quegli anni frequentava le persone del… che hanno partecipato, alcune di quelle che hanno partecipato al Credo di Roma. E il racconto che fa il ricordo di costui è quello di personaggi che erano animati e mossi da un fastidio quasi estetico nei confronti di ciò che li circondava. C'è, c'è. C'era troppa gente, troppa gente che, diciamo, bazzicava le varti belle delle loro città. Io scendo in via del corso e trovo troppe persone, vado a aprire un caffè sotto casa Manhattan, stiamo parlando evidentemente di un'oligarchia internazionale e c'è troppa gente. Ricordiamoci che erano gli anni del boom economico, quindi evidentemente c'erano più persone, c'era più disponibilità e questo dava fastidio. E guardo un po' se non ti arriva questa proposta che adesso vediamo attuata. Quindi, diciamo, delle finalità eugenetiche. Così introduco il tema perché, secondo me, qui siamo davanti ad un attacco all'uomo senza precedenti. Primo perché accade in un contesto culturale preparato da decenni, che adesso è maturo, è pronto. E poi perché è condotto da un'alleanza di poteri, anche questo è un fatto di per sé straordinario, che dispone di mezzi tecnologici mai avuti prima. E, diciamo, la tempesta perfetta. Se c'è tempo vediamo per che cosa. Sì. Leonardo, ti lascio proseguire. Sì, è interessante anche incogliere quella che è stata l'evoluzione nell'uso della guerra, nella strategia di guerra. Perché fino, diciamo così, alla prima guerra mondiale tutti i conflitti erano prevalentemente, coinvolgevano prevalentemente ovviamente militari, c'erano campi di battaglia che erano fuori dalle città, lontano dai civili e solo casualmente, occasionalmente, i civili venivano coinvolti. Dalla seconda guerra mondiale, con l'evoluzione tecnologica che prima Martina citava, e soprattutto con lo sviluppo dell'aviazione, hanno spostato l'asse di 180 gradi. Se prima la popolazione civile era toccata marginalmente, i bombardamenti delle abitazioni civili durante la seconda guerra mondiale e dopo sono diventati la regola. Non dimentichiamoci i bombardamenti di Dresda, a guerra praticamente quasi finita, quando Hitler si era già arreso. Non dimentichiamoci i bombardamenti di Milano-Roma e delle principali città italiane, centri storici, e non dimentichiamoci il bombardamento di Monte Cassino. Ecco, lo stavo pensando proprio. Monte Cassino ha avuto una doppia valenza, intanto c'erano un sacco di civili, bambini, donne che si erano rifugiati in questo enorme santuario che è un valore simbolico straordinario, e loro lo hanno bombardato e noi l'armistizio lo avevamo firmato nove mesi prima. Quindi la volontà di colpire la mente collettiva qui diventa evidente. Il bombardamento come metodo di trauma, la dottrina del terrore, prende corpo. Quindi questa questa elite misantropa, possiamo dire così, diventa ossessionata nel colpire la mente collettiva, che vuol dire bloccare la memoria delle persone, vuol dire bloccare e uccidere la mente di civiltà come quella europea, in particolare quella italiana, che poi nell'evoluzione dei tempi ha assunto caratteristiche molto, molto importanti, che poi magari vedremo. E da lì si è arrivato anche ad altri metodi. Sì, e difatti l'avevi già introdotto proprio Martina, Martina Pastorelli, perché c'è anche un metodo, a questo punto, ideologico di depopolamento. E l'hai proprio anche detto in maniera proprio molto chiara prima, quando dici le figure elitarie del club di Roma, che hanno proprio un senso di disprezzo a vedere in giro tutta questa gente in posti belli, che potrebbero godersi solo loro in pratica. Sì, allora, per depopolare, per sfondare, non è necessario, come dicevate voi, un'apertura per forza a una guerra, una guerra di trincea. Ci sono altri metodi e il primo da cui non si può non partire, anche perché dal punto di vista logico sta alla base di ogni altra contrazione contro l'uomo è l'aborto. L'aborto che ormai è diventato nelle nostre società occidentali un diritto, financo un bene, perché sto pensando alla Francia che l'ha inserito, lo protegge come diritto costituzionale, addirittura dal punto di vista morale qualche cosa di giusto e di buono. È un passo enorme da ogni punto di vista, una cosa che non si era vista in nessuno stato, neanche in quello ateo, neanche nell'URSS, aveva mai usato tanto. E dicevo, è il più grave, da cui dipende tutto, perché, altro che oscurantismo e conservatorismo, quando se ne parla, la difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Quindi, come dire, di che cosa stiamo parlando se saltiamo questo passaggio? Perché suppone la convinzione che un essere umano è sempre inviolabile, in qualsiasi fase della sua vita e in qualsiasi fase del suo sviluppo. Se cade questo principio, beh, cade tutto il resto, vengono meno le fondamenta per difendere qualsiasi altro diritto umano. Eccolo là. E allora, in questo modo esponiamo le persone, l'uomo, al potente di turno. E infatti poi ci sono altri metodi, c'è la guerra combattuta, ovviamente, c'è la guerra demografica. Vedi l'ideologia antinatalista? Consiglio chi può di andarsi a vedere online questo film, questo docufilm che si chiama Birth Gap e che racconta la cosa peggiore penso che possa capitarci, cioè un mondo senza bambini. Perché è fatta da uno statistico che racconta l'altra storia, cioè mostra che non è vero quello che ci stanno dicendo, cioè che siamo sovrappopolati, anzi non nascono più bambini. Se siamo tanti, se il numero cresce di persone nel mondo è perché ci sono più anziani, più vecchi. Allora, si tratta semmai di gestire in un altro modo questa situazione, ma non di dire non fate più figli. Poi ogni scusa è buona, no? Anche l'ecoansia, vi ricordate, è una scusa per non mettere al mondo creature. Ecco, quindi c'è questo elemento, c'è l'ideologia green che ci dice che l'uomo è un problema, con tutta la storia del riscaldamento globale di origine antropica, cioè è stato ribaltato, questo anche dal punto di vista concettuale, intellettuale, da parte di tutte le grandi organizzazioni mondiali, con One Health, questo piano, questo progetto che guida le loro azioni, è stato ribaltato l'ordine, cioè l'uomo non è più al centro, al vertice di una, io che credo dico creazione, diciamo del pianeta, ma diventa quello che sta sotto, sotto le altre specie, animali, vegetali, enorme, perché capite che siamo molto più esposti. E come diceva l'ideologo, no? Noa Juval Harari, che dice che appunto questo nuovo guru, no? Fra dieci paia di virgolette guru, ovviamente, che dice che appunto l'essere umano è un problema perché l'architrave del suo ragionamento è quello, no? L'uomo è un problema e come sappiamo i problemi vanno rimossi, no? Nella vita, no? Ovviamente vanno risolti, quindi bisogna risolvere questo problema dell'uomo, risolverlo nel senso eliminarlo. Beh, a proposito di eliminarlo, un bel mezzo per arrivarci è anche l'ideologia gender, non dimentichiamo, in questi giorni è uscita la mia intervista a Michael Schellenberger, che ha portato alla luce una cosa scandalosa, e cioè le conversazioni tra medici di genere, perché si chiama così la medicina di genere, che praticamente tra di loro parlano di come intervenire cambiando, come se fossero dei pupazzi, i genitali a bambini, ballati di mente, persone con dei gravi problemi psicologici, tutto questo lo fanno, lo si evince tra l'altro dalle conversazioni, senza sapere quali sono le conseguenze, e quando invece alcune conseguenze sono segnalate, tra cui tumori, problemi chiaramente di natura psicologica e ormonale, e beh, ci passano sopra con un straordinario cinismo. Allora, per sintetizzare, ecco qui, Schellenberger dice, guardate che qua siamo gestiti da dei militanti trans che vogliono i vostri figli per condurre esperimenti grotteschi e anti-umani, e il problema è che gran parte del sistema medico-scientifico si beve la bugia che ci hanno raccontato, e cioè che sia possibile cambiare sesso. Anche questo è un modo con cui evidentemente si distrugge l'uomo, no? E si evita qualche procrepo. Certo, e questo è il filo rosso che unisce tutti. Ce ne sono altri, no? Altre tematiche, Leonardo, unite da questo filo, anzi da questo filo, da questo cavo rosso a questo punto. Sì, io devo, ovviamente sono d'accordissimo con Martina e vorrei dare anche qualche dato statistico, perché nel 2023 sono stati fatti 45 milioni di aborti ufficialmente, moltiplicate per dieci anni, e capite come l'aborto rappresenti uno dei trattamenti di fondo per ottenere il risultato di depopolamento. Uno, noi non siamo più allenati, questi ci nascondono le cose davanti agli occhi e noi non siamo più in grado di riconoscere quello che loro vogliono fare nei loro piani che sviluppano in archi temporali che in unità minima sono cento anni, quindi secolo, mentre noi siamo ormai nell'automatismo, dopo essere stati ovviamente indottrinati, perché viviamo in questo sistema qui che ci guida con delle briglie e con dei paraocchi a guardare sempre quello che vogliono loro, ci siamo dimenticati che possiamo toglierci i paraocchi e guardare in archi temporali ben più ampi e molto più profondamente di quello che per abitudine loro ci hanno inculcato. Questo per dire che è un processo ideologico molto profondo che attacca la famiglia, che umilia la donna, che usando i diritti delle minoranze e cancella i diritti di tutti e questo dobbiamo dirlo la radice giacobina, ricordiamocelo, perché altrimenti rischiamo di non collegare i punti nella storia, anche la rivoluzione russa ha la stessa identica radice e quindi c'è un fil rouge molto forte e il prosieguo di questo fil rouge sono le epidemie create dall'uomo. Il Covid-19 è un'epidemia creata strumentalmente dall'uomo che ha prodotto 7 milioni di morti in 4 anni e le vaccinazioni di massa ne sono lo sviluppo successivo, quindi la medicalizzazione di tutti gli esseri viventi, soprattutto degli esseri viventi sani. Questo per fare cosa? Per avere sicuramente il controllo delle persone, ma essere in grado di determinare la qualità e la durata della salute delle persone. Perché non è possibile, come Martina l'abbiamo affrontato qualche anno fa, non è possibile pensare di vaccinare un essere vivente con tutti i vaccini che questi si stanno sognando, come fosse una cosa normale. Già vaccinare i guariti era una bestemmia che non stava né in cielo né in terra con il Covid ed ecco le altre malattie infettive. Questi vogliono non solo vaccinare i guariti, li vaccinano più volte e vogliono ampliare il portafoglio di vaccinazioni con il progetto trattato pandemico come requisito indispensabile per poter lavorare e muoversi per il mondo. Cioè è veramente un disegno, scusate il termine, diabolico. Allora perché noi dobbiamo toglierci il paraocchi. Perché noi siamo allenati a seguire un elemento alla volta. Invece loro, questi signori qui, ragionano per aree di obiettivo. Un obiettivo ovviamente la mente con i processi di indottrinamento, manipolazione e condizionamento della mente umana. Ma il secondo, la seconda area di intervento di questi signori qui è la salute attraverso il sistema immunitario delle persone e di massa. Perché vi ricordo che nel Covid l'effetto PNEI, che vuol dire psicologico, neuroendocrino ed immunologico, vale il 90% del problema. Quel virus lì era talmente debole che se non ci fosse stato l'abbattimento del sistema immunitario collettivo non ci saremmo né infettati né ammalati. La conferma è che il popolo Amish ha avuto il 90% in meno di morti per Covid del resto della popolazione americana, quindi ha avuto una banale influenza. Quando gli altri morivano negli ospedali come sono morti da noi, maltrattati per una questione anche oggettiva di affollamento. E in Africa il Covid e in altre parti del mondo non è mai esistito come problema. È un problema che riguarda il mondo occidentale e la Cina che hanno evidentemente collaborato su questo tema qui. Quindi ci dobbiamo preparare a rileggere anche questi fenomeni sulla base delle aree obiettivo che loro si costruiscono. Perché di interferenti endocrini sul sistema immunitario non c'è solo il vaccino Covid che peraltro ha un tropismo peculiare sulle gonadi, quindi sull'apparato riproduttivo maschile e femminile generando la sterilità nel maschio e la sterilità anche nella donna perché ci sono delle ragazze di vent'anni che vanno in meno paura. Questo è un altro tassello. Eh sì, perché completa il disegno. Le guerre sono verticali, sono puntuali. Il trattamento di fondo diventa la base di questo intervento per il depopolamento e con questi strumenti apparentemente per la salute di tutti riescono ad ottenere un risultato che è eclatante. Perché se facciamo la somma dei parametri che abbiamo visto prima, il numero è spaventoso negli ultimi quattro anni. Allora, cosa voglio dire? Noi dobbiamo cambiare la logica della medicina nel leggere i fenomeni, quindi non correre dietro al singolo interferente, sia vaccino piuttosto che, perché noi in Veneto abbiamo pagato ticket con i FAPS, queste sostanze, gli Ever Chemicals li chiamano, queste sostanze a base di fluoro che interferiscono con il sistema ormonale, che sono cancerogeni e che quindi da anni noi assumiamo con l'acqua delle condutture e sappiamo che ci sono laddove li vanno a cercare, ma il sospetto è che ci siano un po' dappertutto a questo punto, perché se fate una ricerca sui FAPS scoperite che non riguarda solo il Veneto. E l'altro punto è la trazina, i glifosati e l'ultima novità della struttura più pericolosa dopo l'OMS è l'Unione Europea che ha legittimato che cosa? Gli OGM che adesso si chiamano TEA. Cioè, se il vaccino è un vaccino genico, quindi è una terapia genica, se ci danno da mangiare tramite gli animali e tramite i vegetali gli OGM cambiando nome, chiamandoli TEA, non è che vada meglio, eh? Sì, sì. Tra l'altro, ecco, TEA è il nuovo acronimo perché ormai OGM forse a livello di marketing non era più ben spendibile, anzi, perché era un po' come vedere appunto la lebra quasi, no? Tra l'altro, mentre stavi parlando prima della medicalizzazione, io vorrei ricordare una frase pronunciata ormai circa 50 anni fa, perché parliamo degli anni, metà anni 70, dall'amministratore delegato allora della Merck, Eric Gasden, che diceva il mio sogno è vendere medicine a persone sane. Ci sono riuscite. Questa è ci sono, missione compiuta. Martina Pastorelli. No, infatti su questo bisogna dire anche, a proposito di medicalizzazione, che questo comporta, e lo vediamo, lo tocchiamo con mano, che noi veniamo ridotti praticamente a dei pazienti permanenti, cioè a persone che viene dato per scontato che stiano male e che, contrariamente a quello che dovrebbe avvenire, devono dimostrare, vuoi col tampone, vuoi col grip pass, vuoi con la diciottesima dose di quello che ti farai, che invece stanno bene. Cioè è un ribaltamento anche in questo. È quella che Ivan Illich chiamava l'espropriazione della salute. L'espropriazione della salute poi porta alle conseguenze, e torniamo al punto di partenza, alla questione del depopolamento, alla questione dello sfrondare, far fuori un po' di persone. Tutto questo, mentre continuano a proliferare i lavoratori che fanno ricerche gain of function. Con quello che è successo, con l'esperienza della pandemia, avremmo dovuto tutto imparare una lezione, cioè chiudere questi centri e invece vengono appena potenziati. Poi c'hai che, da non dimenticare, in questo diminuzio dell'uomo che viene portato avanti, ci sono anche questioni economiche, c'è un impoverimento, che possiamo anche verificare direttamente, delle popolazioni. C'è l'assalto alla proprietà privata, che è un diritto primario che emancipa l'uomo, che lo libera, che lo rende responsabile del proprio destino, anche questa è sotto attacco. D'altronde dobbiamo ricordarci il motto dell'UEF, non avrai nulla e sarai felice. Questo è un inganno, chiaramente, che viene portato avanti perché, come diceva Leonardo prima, ma no, viene colpita la mente collettiva, cioè veniamo tutti quanti ingannati, e da che cosa? Da una guerra, che si chiama Cyber War, che è ormai la quinta dimensione di guerra, per le grandi potenze, e che è la guerra cognitiva che viene condotta dagli stati, non contro il nemico esterno, ma contro i propri cittadini. La vediamo in alto tutti i giorni, perché si compone di censura, si compone di misinformazione e disinformazione che ci viene dalle fonti che dovrebbero essere attendibili ufficiali, confondono i piani. Ormai nessuno di noi, neanche chi è più sgamato, sa che cosa è vero e che cosa è falso. Cioè tutto è mescolato, tutto è ricreato, e a proposito di ricreato, viene descritta di fatto una iperrealtà dai media, attraverso i media. Viene riscritta la realtà. Allora tutto questo porta a tutti questi passaggi, sono funzionali alla distruzione, io penso, dell'uomo. Allora, secondo me la grande questione è perché lo stiamo permettendo. Perché è un'autodistruzione di fatto. Perché lo permettiamo? Lo permettiamo perché abbiamo perso una certa dimensione, che io definisco trascendente, una certa concezione di sé quali individui che sono colmi di dignità, che sono irripetibili, che sono unici, e che quindi si rispettano e vanno rispettati. E bisognerebbe dire perché, che cos'è che abbiamo perso prima ancora di perdere questa concezione di noi. Leonardo, abbiamo perso cosa? La concezione del divino? Siamo nel pieno della lettura, dell'interpretazione meccanicistica del mondo, dell'esistenza? Quando cancelli Dio nel cuore degli uomini può succedere di tutto, lo stiamo vedendo. Quando l'operazione ha come obiettivo cancellare e tranciare le origini, le radici di un popolo e la sua civiltà, lo puoi portare, come stanno portando Haiti, al cannibalismo. Cioè, è solo una questione meccanica. Se non trovano sbarramenti, questi vanno fino in fondo, e non c'è limite, eh? Non c'è limite. Quello che voglio dire è, la potenza manipolatoria di questi signori che controllano tutti i mezzi di informazione, è tale per cui riescono, corrompendo anche il linguaggio, perché non dimenticatevi che oggi difendersi vuol dire attaccare. pace vuol dire guerra, e via dicendo. Tutti i termini tradizionali della nostra lingua sono stati corrotti nel loro significato originale. Questa è un'operazione di manipolazione della mente e di condizionamento della mente e della percezione della mente umana che è veramente sottile. Ma le radici sono di un'altra civiltà, io devo dirlo, perché questo è uno scontro di civiltà, una civiltà, la nostra, che ha avuto in Dio un riferimento univoco e con i valori cristiani abbiamo costruito la più grande civiltà esistente in tutta la storia dell'umanità. Non dimentichiamoci che noi con il Rinascimento siamo la prova provata che lo sviluppo spirituale può portare gli esseri umani singoli e in collettivo a raggiungere gli obiettivi tangibili che sono spaventosi, spaventosi nel senso positivo, all'opposto di quelli che questi signori vogliono fare. Questi signori invece non amano Dio, anzi lo combattono, e vogliono ottenere l'egemonia mondiale attraverso lo schiacciamento dell'essere umano. E per poter essere egemoni a livello mondiale devono controllare ogni pensiero delle loro popolazioni, questo è il paradosso, perché paradossalmente devono avere il consenso che serve loro per fare il loro business, perché c'è un tracciante evolutivo interessantissimo. Il padre di Bill Gates, Bill Gates Senior, era il presidente della Planet, Parent Tuttle, la pianificazione genitoriale negli Stati Uniti, questa ONG, ricordatevi che ONG è una pelle di agnello con sotto un lupo, l'ONU è un ONG, l'OMS è un ONG, queste organizzazioni non governative create da questi signori ammattandole di valori umani che non hanno. il padre Bill Gates ha fondato e guidato la Planet Punitude, che finanzia l'aborto dagli anni, credo, 50 negli Stati Uniti. Quindi una madre che vuole abortire non solo viene assistita psicologicamente, ma viene anche pagata. E i feti degli aborti vengono rivenduti agli istituti di ricerca, alle aziende farmaceutiche che costruiscono farmaci. I vaccini Covid contengono cellule di linea continua di queste cellule ottenute da feti abortiti, ma anche le industrie alimentari comprano queste linee cellulari per fare gli ecipienti e aumentare il sapore nelle bevande commerciali. Signore, sotto c'è un business enorme, quindi dobbiamo veramente fare in modo che la gente sappia che abbiamo il diritto dell'obiezione di coscienza. Non ci si può piegare alla narrazione di queste persone qui, perché non è ammissibile iniettare materiale genetico umano, come è successo con questi vaccini, come ecipiente, nel corpo di persone sane. Non è normale, non è normale, assolutamente. Le linee continue sono cellule tumorali, se vogliamo far mangiare non a caso la carne ottenuta sinteticamente da queste cellule. Ci vogliamo far mangiare le cavallette che sono per gli esseri umani tossiche e possono essere anche genotossiche, come la carne sintetica, come il latte umano sintetico ottenuto con queste tecnologie. Dobbiamo dirlo, perché altrimenti sembra che solo perché c'è un marchio, quel potere del marchio commerciale, si possa fare tutto. Ricordatevi che la Coca-Cola come il vaccino Covid-19, non ha mai dichiarato cosa ha dentro come componenti. È una formula segreta. Ci hanno abituato con i prodotti commerciali, che è la prima arma di conquista geopolitica, ad assumere cose di cui non sappiamo nulla, come fosse normale. Martina Pastorelli, anche qui spunti a Iosa. Non ti faccio una domanda, ti lascio commentare, fare delle osservazioni a tua discrezione. È chiaro che siamo davanti ad una anticreazione. Laddove il Dio cristiano era padre amorevole, buono, che lascia i suoi figli liberi, il concetto del libero arbitrio, qua abbiamo queste oligarchie prepotenti e disumane che vogliono controllare e ci stanno arrivando fin nel minimo dettaglio la vita delle persone, vogliono controllare quello che noi pensiamo e vogliono sperimentare, lo stanno facendo, e vogliono eliminare, e lo stanno facendo. Allora, tutto questo per dire però che noi abbiamo una possibilità ed è quella di tornare lì da dove ce ne siamo venuti via. perché quando si mette da parte Dio, ci si espone, ci si espone il Dio cristiano. Quando si rinuncia, si nega la dipendenza tra la creatura e il creatore, si rinuncia alla vera grandezza dell'uomo, che è il baluardo della sua libertà e dignità. E quindi ci esponiamo alla prepotenza del potere, che è quello dello Stato nazionale, dello Stato sovranazionale, del signor Gates di turno. ecco, i comandamenti di Dio oggi di fatto sono sostituiti da quelli delle oligarchie finanziarie, da Bill Gates, e non sono certo a tutela dell'uomo, ma riflettono gli interessi del Dio di turno, che adesso per esempio è Bill Gates piuttosto che Schwab. Allora, attenzione, perché quando l'uomo si smarca dal suo creatore, quando mette Dio da parte, Dio cristiano da parte, tutto diventa possibile. e direi che quanto alla civilizzazione che stiamo perdendo, perché siamo anche a una deriva proprio civile, in cui sono venuti meno i fondamenti culturali, e anche qui non occorre andare a cercare chissà che cosa. Il cristianesimo è diventato un nemico, soltanto che il cristianesimo non era una fede e basta, è una fede che ha tenuto a battesimo una civiltà, quella della dignità degli uomini, della libertà, della responsabilità, dell'uguaglianza. Allora, abbattete il cristianesimo e avrete distrutto questa civiltà. Relegate la fede cristiana al ruolo di una narrazione, a un fatto privato e avrete perso il nostro fondamento. Quindi, gli stessi diritti fondamentali di cui noi tanto parliamo e che chiamiamo fondamentali, ma non dovrebbero essere stabiliti da noi se sono fondamentali, ecco, che cosa diventano? Che cosa diventano i diritti fondamentali dell'uomo? Nient'altro che richieste di individui o di gruppi concesse o tutelate dallo Stato. E allora, a questo punto noi potremmo ancora insistere a chiamarli fondamentali, ma non sono più gli stessi, perché sono libertà o licenze garantite, proprio come avveniva con il pass. Si dirà che sono proprietà dell'uomo in quanto uomo, ma chi o che cosa è un uomo lo facciamo decidere dalla scienza, dalla tecnica oppure dal signor Arari, infine da un Parlamento o da una sentenza di tribunale e così i diritti prima innati, connaturati nell'uomo e non disponibili, ora sono costruiti e negoziabili e quindi non valgono più nulla ed entrano in conflitto tra l'altro tra loro. c'è poco da dire, persa la fede si è persa pure la ragione e l'abbiamo visto platealmente durante la pandemia dove non c'era una decisione che tornasse con l'altra, una cosa che avesse senso, si vaccinavano persone che erano guarite, si imponevano misure di contenimento laddove esse non garantivano nulla di quello che avrebbero dovuto garantire e si faceva digerire tutto questo alla gente, la gente la persona noi tutti dobbiamo riprendere consapevolezza di che cosa ci stanno facendo e tornare lì di chi siamo certo infatti Martina molto opportunamente mi ha anticipato perché ha diciamo introdotto come si dice la parse construence perché volevo arrivarci ma molto opportunamente l'ha già introdotta nel suo intervento Leonardo diceva recupero delle radici non ci sono altre storie è quello insomma noi dobbiamo recuperare i nostri valori cristiani i nostri principi cristiani che quelli si possono guidare al di là delle 150.000 leggi scritte male e duplicate in questo stato che fa un po' da ridere perché le leggi servono per chi non aveva fede sono nate per chi non aveva fede e non aveva principi cristiani che era una minoranza questa è la storia della legge perché chi era cristiano ed era praticante non aveva bisogno di sa per la legge morale sai cosa è giusto e sai cosa non è giusto rimaneva da coprire quella che era la parte dei delinquenti e quindi la legge fu scritta in modo ma il punto è noi possiamo scusa milionare ti chiederai di riposizionare la sì scusami ecco perché è perfetto dicevo dicevo dobbiamo recuperare le nostre radici praticarle perché noi siamo bloccati dal verbo essere e dobbiamo cominciare a praticare il verbo divenire nella nostra società è stato cancellato se voi fate un corso di formazione vi dicono che il tavolo sta in piedi perché ha tre gambe essere sapere saper fare saper essere la quarta gamba è la più importante saper divenire noi ci siamo dimenticati e non usiamo più questa parola qui quindi per sapere divenire bisogna decidere dove andare e noi sappiamo dove andare quindi basta decidere di ricostruire una civiltà che sia umana cristiana e libera e noi la strada ce l'abbiamo davanti alla faccia e tutti i giorni dovremo aggiungere un mattoncino su questo selciato che ci porta a traguardo in parallelo e in attesa che questo impero del male croli e imploda però è un atto di volontà quello che dobbiamo fare non è nulla di scontato aiutati che il ciel d'aiuta che era il titolo dell'intervento che ho fatto a Bassano del Grappa è la C maiuscola è Dio cioè aiutati che Dio ti aiuta noi non possiamo star fermi non siamo passivi noi cristiani non siamo mai stati abbiamo sempre giocato la partita da protagonisti star fermi vuol dire dar ragione a questi signori qui sì io direi che con questo ultimo intervento di Leonardo direi che possiamo chiudere qui questa intervista perché ci dà lo spunto diciamo e apre la strada a quello che potrebbe essere anche un prossimo un prossimo appuntamento perché qui abbiamo aperto delle delle nuove visioni assolutamente e da portare avanti quindi io ringrazio moltissimo la giornalista Martina Pastorelli spero di aver presto ospite ancora grazie grazie a voi per l'invito buonasera a tutti e grazie a Leonardo Guerra ricordo biologo molecolare esperto di sistemi sanitari grazie grazie a voi buona serata a tutti grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti 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 Grazie a tutti.